La macchina è stata messa per sfruttare la geotermica, ma non ce l'ha mai fatta a farla funzionare, non ce la fanno neanche per portarla via. Evo Morales, l'amico di Christophe Bordeaux, e ora il maquinario. E' apparecchio che il suolo è troppo fragile per andare con un bulldogger e un trucco, e per andare con le vetture. E se le vetture sono 60, le persone non le vetture. Cile, apparentemente il suolo è troppo fragile per andare con un bulldogger, un coso per tirar via il cuore, l'ho lasciato lì dagli anni 60. Cile, cile, vai. E' il resto della vita.